Mancano due anni all'Expo 2015 ma l'impegno delle aziende collegate a Federal Utility è già molto forte in relazione a questo appuntamento. Ci stiamo muovendo, sì mancano due anni però i tempi sono quelli giusti per organizzare il Festival dell'Acqua del 2015, sarà a Milano, sarà concomitante con Expo e nell'ambito del sito Expo come aziende milanesi ci stiamo impegnando anche a mettere a disposizione la possibilità di utilizzare il casetto dell'acqua. Ne installeremo 32 e quindi saranno disponibili a tutti i milioni di visitatori che ci aspettiamo durante l'evento. C'è anche un particolare impegno da parte di Federal Utility di una forte sensibilizzazione nei confronti dei paesi in via di sviluppo? Assolutamente sì, c'è un protocollo di intesa che è stato firmato con Expo 2015, c'è un impegno forte perché questa presenza si è caratterizzata anche dalle tematiche di cooperazione, tematiche di cooperazione che speriamo possano anche trovare la possibilità di finanziamenti anche attraverso la tariffa, così auspichiamo per poter concretamente aiutare chi ha bisogno e chi non dispone di un bene primario come l'acqua.